La manifestazione continua qui in piazzale Stanga, qui gli attivisti sono appunto contro le politiche del governo, si sono posizionati in mezzo all'incrocio. Ci tolgono il presidio, venite via, ci tolgono il presidio. E allora quello che stiamo facendo qua non serve a niente. La manifestazione continua in mezzo, venite via, ci tolgono il presidio. Grazie.